Ciao, ti sto intervistando per la campagna Aerospace, due giovani di Monaccia Toscana. Allora intanto come ti chiami? Guido. E cosa fai nella vita? Studio, siamo quasi a fine però. E cosa ti aspetti dai tuoi studi? Poco, perché sto studiando filosofia, mi sono quasi laureato, però non è che mi aspetto di fare lavoro con questo. Non lo so, però adesso in circa di ispirazione è qualcosa di bello. E la tua università come è stata? No, vabbè, l'università è stata interessante, mi sono divertito e anche acculturato in parte, però ci sono i tempi che occorrono comunque, anche se no, insomma, già con le lauree non ci si fa uso. Della tua città cosa ne pensi? Cosa vorresti fare per la tua città, Prato? Non sono molto impegnato, diciamo, perché cittadini mi aspetto molto dalla città, non so neanche cosa mi piace. Diciamo faccio il mio alla portata. Della politica italiana in generale pensi a qualcosa? Della politica è molto, molto, molto triste. Che mi può fare? Non lo so, deve andare meglio, se non è una classe politica, non è soddisfacente. Non lo so, non mi aspetto che faccia il mio interesse, diciamo, l'interesse di cittadini. Il Partito Democratico secondo te può migliorare, può fare qualcosa? Spero che migliori, però non è che il nostro compagno sta fatta. Non è successo. Non è successo. Va bene, grazie. Ciao. Dego, ciao.